In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, piena divina volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammetti mio vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a me porrei ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa. Mio Signore, vengo a te a me porrei ai tuoi piedi il mio volere. Mio Signore, vengo a te a me porrei ai tuoi piedi il mio lettore. Ammi il regno del Fiat Supremo A Libro di Cielo, volume 4, 30 e 31 marzo 1901, capitoli 61 e 62 Continuando lo stato di privazione, mi sentivo come un tedio ed una stanchezza della mia povera situazione e la mia povera natura voleva liberarsi da detto stato. Il mio adorabile Gesù, avendo di me compassione, è venuto e mi ha detto Figlia mia, come ti ritiri dal mio volere, così incominci a vivere di te stessa. Invece, se starai fissa nella mia volontà, vivrai sempre di me medesimo, morendo affatto a te stessa. Poi ha soggiunto Figlia mia, abbi pazienza, resegnati in tutto la mia volontà e non per poco, ma sempre, sempre, perché la sola perseveranza nel bene è quella che fa conoscere se l'anima è veramente virtuosa. Essa sola è quella che unisce tutte le virtù insieme. Si può dire che la sola perseveranza unisce perpetuamente Dio e l'anima, virtù e grazie, e come catena vi si pone d'intorno e legando tutto insieme vi forma il nodo sicurissimo della salvezza. Ma dove non c'è perseveranza, c'è molto da temere. Detto ciò, è scomparso. Questa mattina, sentendomi tutta amareggiata, mi vedevo ancora così cattiva che quasi non ardivo di andare in cerca del mio sommo ed unico bene. Ma il Signore, non guardandomi alle mie miserie, eppure si è benignato di venire dicendo Figlia mia, è me che vuoi? Ebbene, io sono venuto a rallegrarti. Stiamoci insieme, ma stiamoci in silenzio. Dopo essere stato qualche poco, mi ha trasportato fuori di me stessa. E vedevo che la Chiesa festeggiava il giorno delle palme e Gesù, rompendo il silenzio, mi ha detto Quanta volubilità, quanta incostanza. Come oggi gridarono Osanna, proclamandomi per loro re, un altro giorno gridarono Crucifige, Crucifige. Figlia mia, la cosa che più mi dispiace è l'incostanza e la volubilità. Perché questo è segno che la verità non ha preso il possesso di dette anime. Ed anche in cose di religione, può essere che l'anima trovi la sua soddisfazione, il proprio comodo e l'interesse. Oppure perché si trova in quel partito. Domani possono avvenire meno queste cose. Si può trovare in mezzo ad altri partiti. Ed ecco che fuor piano dalla religione, senza dispiacere, si danno ad altre sette. Perché quando la vera luce della verità entra in un'anima e si impossessa ad un cuore, non è soggetta ad incostanza. Anzi, tutto sacrifica per amore suo e per farsi da lei sola signoreggiare. E con animo invitto disprezza tutto il resto che alla verità non appartiene. E mentre ciò diceva, piangeva sulle condizioni della generazione presente. Peggiore da allora, soggetta all'incostanza, a seconda che espirano. I venti. Sono molto ricche queste considerazioni che anche oggi fa Gesù. Soprattutto il secondo capitoletto, a mio avviso, è anche molto, molto, molto profondo e molto istruttivo. Sia per leggere bene il proprio cuore, sia anche per comprendere bene alcuni fatti di attualità proprio storica, anche politica se vogliamo, quando parla della paratenza al partito, o anche ecclesiale, quando Gesù fa esplicito riferimento a chi nelle cose di religione cerca il proprio partito, il proprio comodo interesse o soddisfazione. Ecco, questo perché, come sempre, anche in queste prime fasi, anche se qui vedremo, Gesù ha un discorso esplicito sulla divina volontà. E fin da subito, in questi scritti, Gesù manifesta una delle caratteristiche fondamentali, a mio avviso del regno del divinvolere, che è quello, in qualche modo, di sollecitare, sollecitare, come dire, con una certa chiarezza, fermo sempre restando la libertà della creatura, che è un principio sacrosantissimo, specialmente in questo mondo, della divina volontà, però la sollecità a tirare fuori quello che ha dentro, ad andare a guardarsi in fondo, a interrogarsi con sincerità, perché dinanzi alla divina volontà non ci possono essere blef e tutto il nostro rapporto, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita di fede, dopo la vita, la vita, la nostra esistenza, si struttura e deve strutturarsi davanti a Dio, dinanzi al quale tutto è nudo. Allora non possiamo nascondere niente, possiamo provare a nasconderci da Lui, come fece Adamo, ma senza successo. Un'operazione molto più frequente, molto più diabolica, è nascondere noi a noi stessi, perché nascondendo noi a noi stessi non stiamo nella verità, e quindi, come Gesù qui spiega benissimo, non possiamo né stare né perseverare davanti a Dio. Allora, quelle parole bibliche, no? Egli scruta i cuori, metterà nudo le intenzioni dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio, no? Bellissimo, no? Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, queste sono lettere, finché venga il Signore, dice, Egli metterà alla luce i segreti dei cuori, no? Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Questo è un passo della lettera di San Paolo. Allora, cosa c'è nel nostro cuore? Gesù comincia, bellissimo. Vi spiega anzitutto che la vita nella Divina Volontà è uno stato, diciamo così, non è qualche momento. Ecco perché dicevi vivere nella Divina Volontà, no? Cioè, sapete che tecnicamente, noi diciamo io vivo a Roma, ecco, ma come dire, tecnicamente, proprio da un punto di vista di analisi logica, il complemento di stato in luogo, appunto di stato in luogo, si dovrebbe tradurre, io vivo in Roma, io vivo in Latina, io vivo in Napoli. E si chiama, appunto, complemento di stato in luogo. Perché di stato? Perché è una situazione stabile. Quindi dove uno ha la residenza, c'è vive. Non è che c'è benza, ma, ecco, certamente, ecco. Quando uno sta in qualche paesello, come sottoscritto, ci sono anche persone che si vantano, e questa è la scuola per la Divina Volontà, che non hanno mai messo il naso fuori dal paesello. Ecco. Questi sono un ottimo, quando uno si discruta, ecco, così dovrebbe essere la vita nella Divina Volontà. Perché nelle grandi città, sapete, la mobilità di questi tempi è abbastanza frequente, no? I viaggi, macchine, navi, treni, aerei, moto, eccetera. Però, nella Divina Volontà si vive senza uscirne mai. E Gesù spiega, come ti ritiri dal mio volere, così incominci a vivere di te stesso. Cioè, questo ogni istante della nostra giornata è così. Cioè, io in ogni momento posso stare a vivere di mia volontà o di Divina Volontà. Ecco, voi sapete che le fissazioni sono una patologia psicologica, i fissati. Ecco, ma se uno volesse fare, come dire, un'analogia un po' ingraziosa e santamente ironica, se si può usare questo termine, quelli che vivono nella Divina Volontà sono fissati, sono, d'accordo? Non nel senso che sono malati, ma c'è un punto fisso da cui non ci si sposta. E qui dobbiamo sempre pensare alla vita della Madonna, no? Ma anche poi, a un certo punto, alla vita di Luisa, perché anche Luisa ha fatto questa vita, veramente. Pur se non in maniera eroica, insomma, assolutamente perfettissima, e ininterrotta dal concepimento fino all'assunzione, come è stata in Maria Santissima, però l'ha fatta. E qui Gesù lo sta insegnando. Anche più avanti nei volumi, mi sembra che nel volume 16 o nel volume 17, che c'è questo brano, e che sì, tu ci stai dentro la mia... Ogni tanto fai qualche piccolissima escursione, ecco, e poi rientri, no? Anche nel 1900, quant'è, si amariati la 1900, non mi ricordo quanto, quindi questo è per noi che siamo fallaci, ecco, e siamo imperfetti, questo è un cammino perpetuo, no? Però la Madonna neanche un secondo a fare un atto di volontà propria, no? Questa è una cosa in cui, piano piano, la nostra mente deve abituarsi ad entrare, non è una cosa, ecco, come dire, è una cosa semplice, semplicissima, ma non è una cosa facilmente raggiungibile, quindi perché richiede un proliferare di conoscenza, un tornare con la meditazione sull'importanza di tante cose, un fare l'attenzione, quindi è un lavoro continuo. Poi gli parla di quell'aspetto, di uno degli aspetti del vivere nella Divina Volontà, che è la rassegnazione in tutto la mia volontà, che significa prendere, che è un aspetto fondamentale, perché non è soltanto uno stato, no? Quindi non cercare di imparare a non agire mai con un atto di volontà mia, che questo significa moltiplicare gli atti, diffusione, gli atti attuali, eccetera, no? Quindi non essere mai il principio, come dire, originante di nessuno dei nostri atti, né pensieri, né parole, né passi, né gesti, zero. Questo però non basta, d'accordo? Perché la giornata, la vita, ci mette dinanzi tante situazioni, dove la Divina Volontà c'è incessantemente, ma anche negli esempi, come dire, nelle cose più banali e più comuni della vita. Tipo se brucia una cosa mentre stai a cucinare. Quando impareremo a riconoscere anche la Divina Volontà in queste piccolissime cose, saremo un buon punto. Stare rassegnati significa stare sempre aperti ad accogliere tutti i modi con cui la Divina Volontà in continuazione ci si para dinanzi. e imparare a non vedere mai più nulla con occhi umani, ma sempre con occhi tutti divini. Questo non è il lavoro di una mezz'ora. Allora, per questo lavoro, quale virtù ci vuole? Ci vuole la perseveranza. Ah, un animo non perseverante può spostare, ma soltanto state tranquilli, che qui dentro non ci entrerà mai. Qui dentro non ci entrerà mai. Mai. E non soltanto non entra nel regno del Divino Volere, ma non può avere solida virtù. Perché la sola perseveranza unisce perpetuamente Dio e l'anima e virtù e grazia, come catena. Come sapete che i consacrati totus tu sanno che il segno della consacrazione come schiavo a Maria è la cosiddetta catenella, che si può mettere al collo, al polso, insomma, dove uno preferisce. Ma quello è un gesto esteriore certamente significativo, perché è un piccolo sacramentale all'interno, diciamo così, del contesto e del significato di questa consacrazione, tanto è vero che bisogna farla benedire, la catenella. Però, poi deve essere vissuto il senso di questa catenella, no? È bella l'immagine della catena. Tutti quanti gli anelli sono uniti l'uno con l'altro. Questo è il furieggio delle virtù, fino a che non si trova neanche l'inizio, no? Ma dice, questa catena che lega tutto insieme è proprio la perseveranza. Perché la virtù c'è quando la pratichi in maniera perpetua. Non è che tu sei giusto se oggi fai un atto di giustizia e domani fai due atti di ingiustizia. Tu sei giusto se sei giusto sempre. E sei giusto sempre se perseveri nella virtù della giustizia. Altre volte ho spiegato che la perseveranza è così importante perché permette di resistere all'ogorio del tempo, capite? Non si è santi, non si viene nella volontà se un giorno faccio tutto, faccio tre mila atti e faccio una grande attenzione, quindi non muovo un passo senza essermi fuso. Sto attento a tutto quello che accade, cerco di leggervi la volontà di Dio e cerco di non opporre resistenza, cerco di non alterarmi, cerco di comprendere quello che Dio vuole dirmi e tante altre cose. E poi il giorno dopo non faccio nulla, non va. Ecco, la perseveranza, la prima cosa. Secondo capitoretto, ecco, Gesù, se tutto quanto è bello, questa è una piccola parentesi, diciamo, spirituale, Gesù la porta con sé e dice stiamoci insieme, rallegrati in silenzio. Ecco, è bello vivere a volte, anche quando stiamo in adorazione, il nostro personale rapporto d'amore con Gesù in silenzio. Godendo della presenza, bisogna osare dire, l'uno dell'altro. Perché noi godiamo certamente della presenza di Gesù, ma noi sappiamo, e da questi scritti ce ne viene una conferma, che Gesù brama, desidera, gode della presenza amorevole di una sua creatura. che lo ama, che gli ricambia l'amore, che riconosce l'amore, che glielo ricambia. Uno dei modi di stare con Gesù è appunto lo stare in silenzio, come raccontava il curato d'Ars, di quel povero contato di nozio che trovava in chiesa, che diceva, che fai tu qui dentro? Dice, niente, lui è lì, guardando il tabernacolo, io lo guardo, lui mi guarda e questo ci basta, no? È una forma molto alta di preghiera. quando la si vive autenticamente. Poi però rompe il silenzio e lo porta a vedere il giorno delle palme. E Gesù lamenta i facili passaggi, questo è un tema tipico, tra l'altro, della predicazione, anche quaresimale, no? Proprio della settimana santa, dei grandi predicatori della storia della Chiesa, si passa da Lausanna a crocifigge con estrema facilità. E qui dice, attenzione, le anime volubili. Le farfalle, le farfalle intese in senso non positivo, perché la farfalla è anche un bellissimo animale utilizzato da Santa Teresa per descrivere la trasformazione dell'anima da Dabaco a farfalla. Però la farfalla ha anche una valenza negativa, perché la farfalla, come sappiamo, Gironzola ha quel volo ondulante, dove Gironzola da un posto all'altro senza fermarsi mai. Quindi è anche l'immagine della volubilità. Allora, ci sono anime che non trovano pace. E non trovano pace perché girano, ma girano non nel senso buono. Si girano e di involere, che è cosa eccellenza. Ma Gironzolano, allora cambiano. A me piace l'azione cattolica, a me piace le negate comuni, a me piace il rinnovamento dello spirito, a me piace Don Pasquale, a me piace Don Fabrizio, a me piace Don Filiberto, a me piace Don questo, a me piace la parrocchia X, a me piace la parrocchia Y. Non trovano pace. Stanno in continuazione, stanno. Come si parla anche dei partiti, no? Ah, prima il mondo del tradizionalismo, poi, no, però i progressisti sono belli per altri aspetti, i modernizi del qua, o quelli che si entusiasmano, capite? C'è il parroco, oh, è venuto il parroco aperto, no? Invece l'altro parroco è il parroco chiuso, o è venuto il vescovo, come dire, tradizionalista, invece quest'altro vescovo è troppo aperto. E lui è venuto il papa progressista, è venuto il papa tradizionalista. I partiti, l'ondulante, cioè, queste cose qui sono tutte quante cose, cioè, un'anima matura nel divino volere, proprio, non è schierata, cioè, questo lo dico anche come esperienza, cioè, tutte queste sciocchezze qui, cose molto, molto umane, partiti, fazioni, perdono consistenza. Perché un'anima che vive nel divino volere unità a Dio, d'accordo? Ogni, come dire, posizione, partito, significa proprio, nell'etimologia stessa del termine, parte significa, significa una visione parziale delle cose, capite? Una visione parziale, perché non si può essere né progressisti o modernisti, né conservatori o tradizionalisti, adesso sono sbagliate entrambe le cose, d'accordo? Allora, nella verità, si sta nella divina volontà, così come si sta nella Chiesa, sapendo che c'ha duemila anni di vita, e camminando nel 2018, quindi non con prospettive, parametri e forme che erano adatte al 1400. Questo è talmente ovvio, ma senza andare a fare tutte le cose, perché dietro queste cose, spiega Gesù, la persona non sta cercando Dio, questo magari la persona sta cercando la propria soddisfazione, il proprio comodo, il proprio interesse. E sapete cosa c'è molto spesso dietro, sappiamo, dietro tutti quanti questi gironzolari, anche chi si appiccica ai preti, gira di prete in prete, io non mai ho fatto quesito un repertorio, c'è il nulla, cioè non sono il nulla, a volte ci sono delle situazioni di profonda inconsistenza psicologica, grandi ferite di vita, insoddisfazioni, vite distrutte, dove qualcuno cerca qualcosa qui a pigliarci, noi cerchiamo un punto fisso, però tutti gli uomini cercano qualcosa, ecco perché Gesù dice, fissati nella mia volontà e basta. E poi cominciano tutte quante, allora c'è le idolatrie, l'appiccicarsi a qualcosa, può essere il prete, può essere il capo del partito, può essere il rappresentante ecclesiale, poi ha arrivato quel vescovo, ha arrivato quel vescovo, questo è il vescovo dei vescovi, ha arrivato quel papa, questo è il papa dei papi, non vanno bene questi atteggiamenti, non è amore e devozione al vescovo, questa qui, né amore e devozione al papa, è figlio di questa roba qua, capite? Non si ama la persona, si ama l'ufficio che la persona ricopre, che è sacro e che è divino, punto. Soddisfazione, comodo o interesse, quante volte ne parla Gesù? no? A volte uno, come dire, per esempio, queste sono cose vissute, no? Fa parte di un movimento ecclesiale, magari dentro questo movimento ecclesiale, si trova poi a dover assumere dei ruoli, come dire, importanti, di responsabilità, di governo, di animazione, attivo, no? Guardate che il cuore dell'uomo, ha trovato, come dire, il suo posto, cioè lui di dentro è importante, qualcuno, capite? Non lo so come si chiama, non è responsabile, direttore della scuola di preghiera, adesso io non li conosco molto bene, tutte le dinamiche dei movimenti, ma sento parlare, no? Allora, non è infrequente che succede che una persona, a un certo punto, sente che magari c'è qualcosa che non va nel movimento X, nel movimento Y, nella realtà Z, ma semplicemente perché Dio gli sta presentando, gli sta chiedendo altro, cioè queste cose non sono realtà assolute, capite? Cioè tutto quello che noi viviamo, niente è assoluto, perché assoluto è Dio, quindi tutte le altre cose sono strumenti e sono mezzi di cui la grazia di Dio si può servire, se ne serve anche, ma può tranquillamente farne a meno, o può semplicemente somministrarti a altro, capisci? Non succede niente, allora però che succede? Che se io qui dentro ho trovato me stesso, ho trovato la mia importanza, ho questa funzione, sono stimato e riverito, cioè capite? Uno non esce dal movimento, per questo motivo, non se lo dirà mai, ma è così, perché? Perché ha trovato lì dentro la propria soddisfazione, cioè, le proprie frustrazioni, il proprio sentirsi inutile, il proprio sentirsi non considerato, non amato, non stimato, è, come dire, surrogato da questo, ma perché nelle parrocchie non accade la stessa identica cosa? Certi persone, cioè, chi vuole sempre andare a leggere, chi passa col cestino delle offerte, che guai se qualcuno si azzarda a fare una cosa di fiori, chi mette a posto i fiori, cioè, sono tutte, cioè, sono tutte dinamiche profonde, d'accordo, non c'è, capito, mettere a posto i fiori nella chiesa, era un servizio bellissimo, no? Ma chi lo fa? Deve chiedersi perché, per chi lo faccio, e come lo faccio, perché anche in quello, cioè, una cosa così, allora, così importante, si è fatta come appunto, da un punto di vista profondo, come il surrogato, di trovare la tua importanza, ecco, dire, il fiori mette guai a chi li tocca, perché questa è una cosa che devo fare io, perché mi fa senti vivo, mi fa senti importante, mi fa senti qualcuno, il parro come dice bravo, mi gratifica, eccetera, eccetera, questa cosa, agli occhi di Dio, non vale nulla, nulla, anche se è una cosa di per sé stessa bella e buona, perché mette uno fiore dentro una chiesa, è un atto di per sé stesso, come dire, di amore, di culto, di devozione, nei confronti del santo, del santissimo sacramento, della madonna, insomma, dove si portano, dell'altare, dove si portano i fiori, allora, comprendiamo queste cose qui, no? Allora, che succede? Dato se della volubilità, ecco, che un giorno cambia il parroco, il parroco non ti gratifica più, e tu sbetti e le metti a posto i fiori, per chi lo facevi quella cosa, per ottenere la gratificazione del parroco, faccio il primo esempio, sciocco, no? Oppure, se sei rimasto nel movimento, per tutto quel tempo, perché, anche se non ti andava più, ti tolgono da quell'incarico di responsabilità, ecco, allora lasci il movimento. Allora, questo fa capire, che sei rimasto fino a quel punto, non perché era volontà di Dio, che tu continuassi a rimanere lì, perché ne traevi l'infa vitale, per la tua vita interiore, ma, perché ti eri attaccato, a questa forma di sublime, chiaramente inconscia, ecco, ma dobbiamo noi fare verità dentro noi stessi, di ricerca della vita, nel ruolo di responsabilità. Allora, attenzione, cosa dice Gesù, quando la vera luce della verità, entra in un'anima, e si impossessa di un cuore, l'anima non è soggetta ad incostanze. Quelli che cambiano bandiera, sacerdotale, conosciuto anime, sono veramente, altro che fare, libellule proprio, no? Fino a quando gli soddisfa i propri gusti, insomma, li gratifichi in qualche cosa, appena comincia a contrarlo un po', si cambia, e si va dall'altra parte. Quanto dura? Fino alla prossima contrarietà. D'accordo? E la dimostrazione, e io questo so di quello che c'è, ho conosciuto tante situazioni, ho parlato con tanti confratelli, cioè, se ti arriva un insegnamento giusto, da parte di un sacerdote, o se ti arriva delle cose positive, da parte di un movimento, per esempio, che poi ad un certo punto ne vedi i limiti, dici, no, no, questa è una cosa molto molto limitata, io non me la sento di starci più, vado via. Ma attenzione, le cose positive che hai ricevuto da quel movimento, vengono da Dio, e te le tieni. Cioè, non è che uscire dal movimento significa, ah, siccome questa cosa l'ho imparata nel movimento, devo fare il contrario, come una sorta, come dire, di cancellazione storica di quello che c'è stato. Oppure, siccome questa cosa me l'ha detta quel prete, faccio il contrario, ma se questa cosa me l'ha detta quel prete, è una cosa che viene da Dio, quindi, cioè, tu non vai contro il prete, tu vai contro il padre eterno, e dimostri ancora una volta, che dietro quello che tu facevi, non c'era l'amore di Dio, ma c'era l'attaccamento alla persona, l'idolatria forse della persona, l'idolatria del movimento, del fondatore, di Tizio e di Caio. Io dico che ringrazio Gesù, perché anche all'attraverso la luce di queste sue lezioni, si può fare tanta luce dentro le anime. Io dico queste cose, cioè, mi riesce anche abbastanza facile meditarle, perché ho esperienza di quasi 14 anni di sacerdoti esercitati, insomma, quasi senza solo che ho fatto solo questo, non ho mai avuto incarichi in curi, o cose di questo genere, quindi sono sempre stato parroco, o vice parroco per i primi due anni, insomma, e quindi in cura d'anime, quindi ho avuto modo di poter farmi questo bagaglio, insomma, che è un bagaglio anche, come dire, di realtà vissute e constatate. Quindi, insomma, quando faccio qualche considerazione, fermo restando, insomma, che è la fallibilità umana, che certamente mi trovo perfettamente soggetto ad essa, però c'è un pochino di corroboramento, derivante dalle esperienze vissute. Quando la vera luce della verità interna un'anima, e chiudiamo e si impossesse ad un cuore, l'anima non è soggetta ad inconstanza, anzi, tutto sacrifica per amore suo, e per farsi da lei sola signoreggiare, e con animo invitto, disprezza tutto il resto che alla verità non appartiene. Io capisco che quella cosa non va bene, e non ci voglio più niente a che fare. Ci rimetto qualcosa, non fa niente. Ci rimetto la faccia, non fa niente. Prendono tutti in giro, non fa niente. Ci rimetto la buona fama, non fa niente. Ci rimetto la gratificazione, il tornaconto, non fa niente. Se la luce della verità, che è entrata nella mia anima, mi illumina, mi fa vedere questa cosa, si parte e si va. Perché l'unica cosa che conta è rimanere uniti alla divina volontà, non a strumenti, persone, fatti e situazioni di cui essa si può. contingentemente, del tutto, come dire, del tutto, non necessariamente, servire. O Divina Maria, la Sagra Scrittura ci ricorda che Dio detesta gli animi incostanti, dice nel Salmo 119 ed anche il tuo San Luigi ci ricorda che non è assolutamente possibile che un'anima ti sia demota se è un'anima volubile. La volubilità è un problema grosso nella vita interiore, molto, molto grosso, così come l'incostanza e la mancanza di perseveranza. noi ti chiediamo con tutto il cuore di liberarci da queste pesti ma soprattutto tu che sei la donna veramente dell'interiorità del silenzio e anche la mamma di aiutarci delicatamente ad entrare nei meandri del nostro cuore a fare luce, chiarezza e verità per non percorrere un cammino di doppiezza e quindi non gradito al Signore e sprecare anche tante possibilità di bene e di grazie che la sua bontà e divina volontà ci mette dinanzi. Nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria